Questo video è una sorta di compilation di un botto di cose che mi sono successo in questi giorni in cui non ho pubblicato nessun episodio I video sono stati messi in ordine cronologico perciò se non ci capirete niente è proprio per questo Cioè sto scherzando comunque Però è divertente Eccoli qua Ending soon Come questo Cosa scusa? Cioè questo finisce fra 4 minuti però è in Iguest Bid Ma che cazzo Chi è? Spero non mi outbidano Ce l'hai Mario però Diciamo però Non funzionano i tasti perché devo mettere il joystick forse E me lo comprerò Come di nuovo c'è già affaro Come? C'è Faram Lo hai ruttato tu Lo ho io Ok ci sono Ce l'ho? Sì cazzo ce l'ho Cosa ho appena visto su pornare Sì ma sto reccando Ok sono dentro Perfetto Ma sono 4 ciascuno C'è C'è Somebody Epic X Ne ha piazzati 4 E di lì ne ha Ah ok gli altri 2 Ne ha piazzati un altro tizio Let's go bitches Mi faccio un po' di spazio Unstable Questo mi serve Dov'è? Dov'è? Sto drago qua mi serve tantissimo Che bello che mo con il runan farmo un bot di Faccio un bot di danno Tiè già sto a 50.000 Mi rompono i coglioni gli zero Quanto è? 12 stiamo a posizione 179.000 E' finita troppo presto sta boss fight 4 frammenti Si cazzo ce li ho Minchia pensavo di più Vabbè no Per ottenerne 5 devi fare almeno 200.000 Di danno Oh obsidian chestplate Di culo Piuttosto mi tengo le blades powder per il fire talisman Che è un altro talisman in più che fa sempre bene Però purtroppo sempre da tenere nell'inventario So che è brutto però Questo è d'altro Per garantire La miglior produzione Cioè la produzione più veloce possibile di cobblestone A posto? Ok Quindi Eeeh Acqua di qua Lava di qua Perfetto cazzo E' fatto ciò Bravo Meno male Meno male che non toglie la lava e l'acqua Ma si però se fai un giro ogni volta Fran Comunque cazzo La cosa più figa è che adesso Lui scaverà il doppio più velocemente So contento cazzo Finalmente Ma guarda piuttosto Me ne vado da un mind merchant E me la prendo qua Un blocco di cobblestone Costa tre monete Ma stiamo scherzando C'è il blocco più facile da ottenere Che costa così tanto Perfetto Grandissimo Braplane E il bello è che lui c'ha la superior armor Cioè non so come cazzo abbia fatto Alla indovina un po' cosa Ti prego dimmi che ce l'ha GG Ah Ale La cosa bella sai qual'è E che se ottieni super compactor 3000 Senza Sbloccarlo Si è un mito Hai ricevuto E' un mito del meatbusting Eh Ma che cosa mi dà No non lo so Direi vero So che aumenta di un fottio Tipo l'HP Ma non penso Cioè non è chiara ancora a tutti questa cosa Tipo l'HP 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 Musica Musica Ok credo che Credo che un'ora sia passata Ma? Full durabili di comune Ma? Ok Devo cercare What the Dragon fight FF mi deposita tutto Ma che cazzo Non lo sapevo Ma tu ringrazio i tank veramente Ma magari Dio gliela tassi io la final blow Magari E infatti gliela ha dato gli zanz Andiamo a vedere Qua un paio di persone hanno ottenuto l'armatura C'è pezzi d'armatura Qua che c'è sta? Tre frammenti Perfetto Qua saprò che c'è sta? C'è qualcosa E ando Qua che c'è? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Me ne sono fatto dare un altro di Bigsfoot, ma che culo, dopo che l'ho bugato. Ho due, ogni volta masturbating virgin is the better. Ma che cazzo stanno a dire? Oh Dio, il primo che ho, il primo che apro questo è... Due. Sì cazzo, ce l'ho, il mio primo sommone in cari. Alleluia. Dopo un botto di tempo che sogniamo di averne uno in mano. Porca troia, ne è valsa la pena, mi sa comprarlo sotto i 500k. Eccomi raga, mi sono fatto uno yogurt con un po' di cereali. Un secondo che posso tutto. C'ho il telefono accesso, non ho capito perché. A posto. Messieto. E ce l'ho. Secondo occhio ce l'ho. A posto. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatelo a casa se vi è piaciuto. Dopo questo vi lascio perché c'ho da fare, bella.